In merito alla vicenda di Piazza Bilotti è giusto che la magistratura sia certi e verifichi, specie quando di mezzo c'è la sicurezza dei cittadini. È la dichiarazione del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, dopo il sequestro della struttura effettuata dalla Guardia di Finanza. Io credo che tutto nasca da denunce, come sono riportate dagli altri, anche dall'utilizzo improprio di alcuni testimoni d'accusa, che sono persone che io ho denunciato per gravi furti e che fanno dichiarazioni, secondo me, completamente inventate. Secondo le carte, il sequestro sarebbe scaturito per la vicenda del collaudo effettuato dopo l'inaugurazione, cosa che il sindaco spiega ed è convinto che il tutto sarà presto chiarito. L'inaugurazione è stata fatta il 16, mentre poi il collaudo è avvenuto il 29, prima dell'evento. L'inaugurazione però è stata fatta con un rilascio da parte dei direttori dei lavori, del responsabile del procedimento e anche del collaudatore in corso d'opera, di un uso parziale della piazza che ha evidenziato che ancora non era stato rilasciato il collaudo, ma che però la piazza era utilizzabile, come si fa spesso, con le consegne parziali, come avviene per tratti autostradali, come avviene per intere strade. Io le ho fatte, per esempio, una volta al Presidente della Provincia, un'intera strada che ancora non era completata. Per alcuni tratti, per favorire la circolazione, la sicurezza, ho consentito, ovviamente con il rilascio dei pareri da parte dei collaudatori in corso d'opera e dei tecnici, l'uso di quella strada. Si fa per i viadotti, addirittura. È possibile per i lavori pubblici, quindi non è che c'è stata una dichiarazione falsa. Un sequestro oltretutto che va ad aggravare ulteriormente le attività commerciali dell'intera zona. Sia un danno enorme per i cittadini, perché questa poi non è la prima volta. Noi siamo attenzionati in questa città, proprio per la presenza di questi avversari che rivestono ruoli importanti all'interno anche di organi dello Stato. E qui il Sindaco si riferisce chiaramente al senatore Pentastellato, Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morrea. E quindi hanno utilizzato misure improprie, per esempio come dicevo prima l'utilizzo di testimoni d'accusa che io avevo denunciato addirittura. E queste situazioni si verificano sempre. Per Piazza Bilotti ricordo che c'era stato Gionze questo per i pali, poi era stato detto che crollavano i palazzi, poi che c'era l'acqua sotto, è stato bloccato il Museo della Rico che adesso è ripartito sempre per una denuncia dello stesso senatore. eravamo stati denunciati per il tratto di Corso Mazzini, questo per la Fontana di Giugno perché ci voleva secondo lui il parere monumentale. Sono stati bloccati i lavori del fiume, sono stati bloccati i lavori del planetario, sono stati addirittura sequestrati i lavori per quanto riguarda il Ponte di Calatrava perché si diceva che mancassero i pareri paesaggistici. Siamo sotto assedio, quindi esistono tutte le giustificazioni, sono convinto che chiariremo tutto. L'autorità giudiziaria, cioè la magistratura ho grande fiducia perché non può fare altro che fare delle indagini. Se c'è qualcuno che denuncia e dice che ci sono dei falsi, che ci sono delle problematiche, che ci sono delle condotte omissive che potrebbero in qualche modo creare insicurezza, far venire meno la tutela dell'ingolumità dei cittadini, è giusto che la magistratura faccia le sue verifiche, ci mancherebbe altro. E' chiaro che noi qua però siamo costretti a rispondere a queste accuse perché provengono da settori che sono ben individuati.